È stato un problema per questa regione, ci sono problematiche da affrontare per trovare delle soluzioni. Certo, il terremoto in alcune di queste aree interne ha creato ulteriori problemi, ma i problemi nell'area interna esistono. Infatti c'è tutta una politica nazionale che tenta di sollevare queste problematiche per dare uno sviluppo economico, perché c'è la possibilità di dare sviluppo economico anche all'area interna, perché ci sono dei valori, ci sono delle attività che possono essere tranquillamente svolte in quei territori, anzi possono avere in quei territori, in quell'area interna, in classe un valore aggiunto proprio per rendere più facile avere un valore diffusore. Perché? Perché c'è un equilibrio ambientale, c'è una bellezza ambientale, c'è una ricchezza ambientale che può essere l'elemento che favorisce l'insediamento di certe attività in quei luoghi piuttosto che in altri.